a pesca dire che zio sid ha fatto un disastro sarebbe un eufemismo quando mamma dinosauro è tornata per i suoi piccoli li ha portati via e beh vedi tu con loro a un certo punto sono arrivati i suoi veri amici che hanno seguito sid per salvarlo prima che fosse tardi chiuseremo adesso è arrivato scrub ma pensa un po che cos'è c'è dell'altro pelo lì a è una scogliattolina e questa me la trago io no è una scogliattola volante si mangia quella ghiante o 2.5 d è però la coda di scratch è un blocco unico nello scorso gioco almeno era tutta fatta coi peli tutta dettagliata qua è tutto un blocco unico vabbè però è particolare un livello così eh posso combattere posso combattere allora cos'altro facciamo niente solamente i calci ok pericordate per attaccare sì sì lo sto già facendo ok facciamo anche la culata c'è da dire che le ciliegie in questo modo sono un filo eccessivamente grandi però aspetta mi hanno rimesso cinque vite ma è perché siamo scrate quindi è un personaggio diverso aspetta voglio vedere esatto oppure ogni volta si resetta uh cristallo grigio tra l'altro ah no è è quello azzurro premix per saltare su nemici per sconfiggerli ah ok va bene non era necessa ok non mi aspettavo la palla di cacca che che saltasse questa è stata in attesa ok preso fantastico ma porca sai perché mi confonde questa cosa è perché io penso che lui non faccia ok qua è colpa del misclick non faccia una culata come come attacco in salto faccia un calcio volante come si dovrebbe fare effettivamente con un personaggio del genere invece no ecco qua oh di qua sai cos'è che mi frega è che io gli vado addosso pensando che gli vado addosso e poi lo colpisco ma in realtà sti nemici qua se li vado addosso ti fanno danno ok attenzione ti levi maledizione l'ho appena finita di dire la frase e continua a fregarmi la cosa prendiamo la pera grazie allora attenzione particolare comunque come scelta però l'apprezzo comunque da un po' di varietà al gioco ok da un po' di varietà al gioco per non farlo ok sempre tutto uguale grazie più che altro dove sta andando fa la rotolata il problema è che stava andando in retromarcia ok c'è qualcosa qui non mi sembra si è schiantato contro il fungo ok calmo schiantato di nuovo contro il fungo mi chiedo se a questo punto ci sia il negozio per scratch magari no ci arrivo qua sopra con un salto ok calmi tutti allora credo di aver capito cosa dobbiamo fare dobbiamo saltare sul pipistrello no per poi arrivare da quella parte proviamo se no esatto da quest'altro trampolino ci fa arriviamo più facile mamma mia ok ok di nuovo pallina becca di questo vediamo cosa sblocca questo bottone altro creep subito tutti e tre fantastico meglio meglio per noi allora credo che dobbiamo proseguire e esatto verso l'alto no da questa parte ma da decisione pensavo ci fosse un checkpoint in mezzo io ok questa volta senza cadere di sotto l'attacca oh cavolo va bene non doveva morire così ma comunque gli volevo cadere in testa e fin là tutto ok quindi tutti i cristalli ce li abbiamo abbiamo 800 passa ciliegie dammene altre così siamo a posto anche per i prossimi negozi fatto ma come stanno correndo sti due guarda no mi aspettavo che andasse contro un contro un un albero io contro la roccia tan 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 hanno distrutto tutto madonna mia che casino e siamo dai siamo messi bene negozio quindi niente vi immagino ben niente per scratch da Grazie a tutti.